Niente tifo assordante, solo silenzio al palasporto di Padova e concentrazione al massimo. È la prima prova della selezione per un solo posto a tempo indeterminato per ostetrica, indetto dall'azienda ospedaliera. 1.394 gli iscritti, pressoché tutte donne che occupano gli spalti dell'impianto di San Lazzaro, per la prova a test con risposta scritta sulle materie della professione. Vengono anche da lontano, Campania, Puglia, Sicilia. All'esterno i fidanzati o mariti attendono, ci sono anche le mamme, ma c'è anche, da Pavia, una nonna col pupo della figlia concorrente. Quali attese ha quindi sua figlia? Molte? Andare via. Ha tante speranze, ma poche opportunità. Sicuramente se ne andrà via. Anche all'estero? Ho paura di sì. Speriamo che riesca a passare questa prova. Sarebbe veramente importante per lei. Attualmente lavora a tempo determinato a Ravenna. Da Roma? Sì, da Roma, perché a Roma non ci sono concorsi, quindi... Padova sarebbe più lontana, ma se fosse un posto fisso... Beh, sì, sarebbe meglio, insomma. Sarebbe un passo in avanti per lei. La prova odierna, dalla quale uscirà una graduatoria di 400 nomi, che effettueranno una seconda selezione, pare sia stata piuttosto facile. Il lavoro della commissione si presenta quindi difficile. Le domande erano fattibili, però ovviamente erano così per tutte, ecco. Ne farai altri di concorsi, immagina? Eh sì, sono già in programma a Vicenza, Bassano... Sei disposta, a caso mai, a trasferirti fuori regione, se capitasse? Sì, certo. All'estero? No, intanto provo qui in Italia e poi vediamo. Grazie.